Massimo Montanari, l'identità italiana in cucina, la terza. Un libro che ci svela cose senza Massimo non le scopriremo, non le capiremmo, va bene? Lui è un docente di storia medievale a Bologna e si occupa da sempre di cibo, va bene? Di cultura del cibo, è un grande studioso di ricette, è un grande studioso della provenienza degli ingredienti, incrociandoli con le strade infinite della storia e ce lo racconta inseguendo alcuni cibi che per noi sono molto noti e così noti che ci facciamo forse meno domande di quelle che potremmo farci. Quando scopriamo alcune cose, come dire, improvvisamente si apre una nuova visione di territorio, una nuova visione di società, una nuova visione di identità. La polenta, ad esempio, la polenta sappiamo tutti che è fatta di mais, ma il mais sappiamo anche che è un cereale, come dire, recente, arriva dopo la scoperta dell'America, molto dopo la scoperta dell'America in Italia. Bene, allora, la polenta quando è comparsa? Insieme al mais? No, no. La polenta era un cibo tradizionale dei contadini della penisola. In età romana si faceva col farro, nel Medioevo col miglio e con ogni sorta di grani minuti o di legumi. Il mais, apprezzato per la sua straordinaria produttività, fu piegato a questo uso, al tipo di preparazione che si era soliti fare con i cereali non panificabili. È un fenomeno ricorrente nella storia dell'alimentazione. Ricondurre le novità alla tradizione. Rileggerle, reinterpretarle, a partire dalla propria esperienza, da specifiche vocazioni culturali, oltre che ambientali e produttive. La polenta di farina gialla non faceva parte delle tradizioni alimentari dell'America precolombiana. Da noi fu l'uso pressoché esclusivo a cui quel cereale fu assoggettato. È bellissima questa storia, perché è la tradizione che vince sulla novità e genera una nuova tradizione. Bellissimo. Non è il mais che ha cambiato, come dire, il nostro modo. No. La nostra storia, la nostra identità, si è trasformata, si è evoluta. A proposito di identità, di italianità, che noi pensiamo, vi leggo quest'altra pezza bellissima sull'italianità, che ci fa capire l'ibrido che c'è in noi. Viviamo di biodiversità, viviamo di ibrido. I nostri territori sono ibridi, devono rimanere ibridi. Le identità alimentari di qualsiasi altra natura non sono iscritte nei geni di un popolo o nella storia arcaica delle sue origini, ma si costruiscono storicamente nella dinamica quotidiana del colloquio fra uomini, esperienze, culture diverse. L'italianità della pasta, o del pomodoro, o del peperoncino, o della pasta al sugo di pomodoro arricchito di peperoncino è fuori discussione, è italiana. Ma è anche fuori discussione che la pasta, il pomodoro, il peperoncino appartengono in origine a culture diverse e che sia necessario scavare nello spazio, oltre che nel tempo, per recuperare i frammenti di storie diverse che alla fine si incrociano e danno origine a storie e identità nuove. In fondo, la ricerca delle proprie radici finisce sempre per essere la scoperta dell'altro che è in noi. Proprio per questo parliamo di identità culturali che si costruiscono nel tempo, mediante il confronto e lo scambio. Bellissimo. Cioè, per capire noi, dobbiamo capire l'altro. Noi che siamo così orgogliosi dei nostri piatti i nostri piatti, che sono l'italianità sono fatti con prodotti che non erano arcaicamente italiani. Bellissimo. E qua si capisce anche le torte salate, le pizze. Un librino che noi capiamo i nostri territori, le nostre culture capiamo che la regionalizzazione delle ricette è un limite, non è una potenzialità. Massimo Montanari l'identità italiana in cucina e nel territorio. La terza. Grazie.